Dopo la giornata al cardiopalma di ieri con la crisi istituzionale tra Regione Marche e Governo che si è consumata a colpi di carte bollate con la sospensiva del Tar, arrivata come una mannaia sul collo a tardasera a vertice in prefettura iniziato che annullava l'effetto della prima ordinanza del governatore Ceriscioli che però come contromossa ne metteva subito un'altra dopo febbrili consultazioni telefoniche in prefettura, oggi possiamo registrare invece una giornata di calma piatta. Al momento che andiamo in onda non ci sono segnalazioni di nuovi tamponi positivi anche se il laboratorio di riferimento della S.O.D. di Torrette sta ultimando la verifica su alcuni tamponi mentre sono arrivate dall'Istituto Superiore della Sanità le conferme dei primi tre per cui ad oggi siamo fermi a sei casi nelle Marche. Che sia la calma prima della tempesta chi può dirlo? Di certo sono confortanti le notizie per coloro che sono stati colpiti dall'epidemia. Lo studente di Morciano che frequentava il liceo scientifico Marconi di Pesaro sta bene ed è già tornato a casa ed è in isolamento come da protocollo. Così come sono stazionarie le condizioni dei due coniugi anziani fanese sempre in prognosi di servata, l'uomo ricoverato a Pesaro mentre la donna rimane al Torrette di Ancona. Negativo poi il tampone del paziente di Pian di Meleto che inizialmente era stato dato erroneamente per positivo. Quindi la conta dei tamponi positivi rimane, riconfermiamo, ferma a sei. Scuole aperte dunque lunedì mattina come anche alcuni sportelli IMSS e alcuni musei. Unica eccezione, in virtù proprio del contagio dello studente il comune di Pesaro ha emesso un'ordinanza ad hoc che prolungherà lo stop alle lezioni per il liceo Marconi di altri tre giorni quindi fino a mercoledì 4 compreso liceo Marconi, lezioni sospese.